eccoci e bentornati sul mio canale primo video news sul mio canale youtube in merito a the last of us 2 il nuovo capitolo della naughty dog ancora non annunciato ma di cui si parla veramente tantissimo ormai da mesi dato che tanti di voi mi hanno chiesto informazioni sul nuovo capitolo dell'action adventure games appunto della naughty dog eccoci con il primo video news ovviamente qui sotto nei commenti fatemi sapere se volete novità su tanti altri giochi in arrivo nei prossimi mesi perché oggi vi parlo di the last of us 2 perché ormai sono passati più di tre anni dall'uscita del primo capitolo correva il mese di giugno del 2013 come sappiamo the last of us è un'esclusiva della sony infatti il gioco uscì su piattaforma playstation 3 parleremo oggi di the last of us 2 perché sembrerebbe che lunedì ci sia un annuncio molto ma molto importante avete capito bene perché la naughty dog ha svelato sul suo profilo twitter che lunedì 26 settembre sarà un giorno veramente molto importante per la serie di the last of us infatti ha dichiarato che ci sarà un grande annuncio ci sarà un annuncio importante in concomitanza dell'evento del the last of us ultra break day 2016 quindi i rumors più accreditati vogliono e vorrebbero l'annuncio di the last of us 2 oppure di un nuovo titolo sempre legato al franchise però incentrato sulla realtà virtuale con il playstation vr lunedì non appena si svolgerà l'evento tornerò con un video dedicato per darvi tutte le informazioni sul the last of us outbreak day 2016 però sarebbe veramente fantastico lunedì sentir annunciato the last of us 2 uno dei giochi uno delle esclusive playstation veramente più belle degli ultimi anni fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate se avete giocato il titolo su ps3 e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale vi è piaciuto iscrivetevi al canale